cosa ti fa stare bene il sole il mare sapere che finora sono stato fortunato camminare bere il latte è perfetta come risposta grazie mille la vita è bella finché finché la vive oggi forse non pensare a nulla viaggiare a volte anche da solo in solitaria altre volte con gli altri o quando viaggio ritrovare amici come per esempio lui cosa vi fa stare bene lei lei si la bambina la come fa la musca? è muuuu